No, vedete la gente che piace l'arte, ci sono dei murali, la scalinata è sopra, e un'altra cosa, quello che siamo passati alla via principale, avete visto? Quella lì è che passa il tram, e tu puoi vedere tranquillamente le cose, c'è quella portella che avevo detto a voi, che fanno la maniocca fritta con la carne secca, buonissima. C'è anche un ristorante sopranaturale, che questo ristorante è dei frutti di mare, sempre a Santa Teresa, sopranaturale, sopranaturale per noi. Dobbiamo prendere la metropolitana, andare a Carioca, e poi da lì a 250, a 5 minuti c'è l'edio, la via, l'edio piano. Ma di qua, per uscire nei quartieri di Uca, dovete prendere un taxi per andare a Botafogo, a Botafogo che lì prende la metro, più o meno per uscire fino a Botafogo, dieci anni. Vediamo il pulmino, dove ci lasciate, vicino al motel e prendiamolo a metro? Posso lasciare voi davanti a una stazione? Sì, sì. Vamo metrò, vamo metrò. Vamo metrò. Vamo deixar vocês junto com eles lá. A gente vai pegar para um lado e vocês para o outro. E eu que entendi. Não é tão, não.